Ecco, Montesilvano che apre la sfilata, la cerimonia di chiusura, che questo raduno regionale delle scuole di calcio d'elite. Ecco il Chieti. 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 Grazie, grazie. Ecco il Chieti. Ecco il Ripa Calcio 2007. Ecco l'Annunzio Marina di Pescara. Ecco il Chieti. 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 dei Chieti. Ecco il Chieti. Right. Siamo a Presenza della Balnega il Sorี้e a Francescollo. Ecco il Chieti. Ecco il Chieti. Ecco il Chieti. La Lisa? il terreno. La dedicazione dell'Aquila, l'Aulizia Cedas si fumora. La storia dell'Aquila, l'Aulizia Cedas si fumora. Ecco la Virtus Castelfrentano, la classica divisa Cialo-Rossa e Blu. E partiamo per l'ultimo. Eccoci anche il nostro Presidente. Un applauso ai ragazzi del terreno a calcio di nocissima. Ragazzi potete aspettare i genitori? Un applauso ai ragazzi del terreno a calcio di nocissima. Un applauso ai ragazzi del terreno a calcio di nocissima. Salutate ragazzi i presenti, i fratelli, i benoni. C'è la delegazione di nocissima, la Val di Sanctro. Ecco la Val di Sanctro. Ecco la Val di Sanctro. Ragazzi vogliamo salutare? Un applauso, vedete? Un applauso. Un applauso. Un applauso ai ragazzi del terreno a calcio di nocissima. Un applauso ai ragazzi del terreno a calcio di nocissima. ragazzi del terreno a calcio di nocissima. Un applauso ai ragazzi del terreno a calcio di nocissima. Un applauso ai ragazzi del terreno a calcio di nocissima. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.